Eccoci qui, buongiorno a tutti gli amici di Milanello con un altro aggiornamento live per quanto riguarda il Milan, è una giornata importante e tra poco vi spiego anche perché, innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale, siamo quasi 4000, io settimana prossima voglio tagliare il traguardo e poi ambire delle vette sempre migliori, grazie al vostro contributo, grazie ai tanti tifosi del Milan vogliamo diventare una grande community rossonera sul web Allora, la novità di oggi riguarda il calciomercato perché da qualche giorno è iniziata a circolare un'indiscrezione molto importante sull'asse Milano-Milano cioè sull'asse Milan e la seconda squadra di Milano, cioè l'Inter, si vocifera di un possibile scambio, o meglio di un'idea scambio e poi vi spiego i dettagli, tra Milano e Inter, tra Chessy che andrebbe all'Inter e Nainggolan che andrebbe al Milan Calma, calma, calma perché vi spiego tutto Allora, intanto hanno valutazioni diverse perché che sia 23 anni Nainggolan 31 ne farà poi 32 Hanno anche ingaggi diversi, 3 milioni e mezzo l'Interista, 2 milioni e 2 che sì e anche scadenze diverse, per questo servirebbe nell'ottica dell'economia del calciomercato anche un conguaglio in favore del Milan Milan che però sarebbe freddo su questa pista, risulta che sia più una proposta dell'Inter perché come ricorderete già a gennaio l'Inter aveva chiesto che sì, Livoriano piace molto da Antonio Conte che lo vorrebbe per completare il suo reparto e quindi torna alla carica proponendo questo scambio che però credo abbia poco margine di riuscita proprio perché al Milan non interessa, non interessa Nainggolan perché ha superato i 30 anni perché ha un ingaggio pesante e anche per una vita decisamente spericolata per dirla alla Vasco Rossi per quanto mi riguarda quindi questo affare comunque non dovrebbe farsi però attenzione sappiamo che si piace ancora all'Inter, piace a Conte e che potrebbero tornare alla carica quando il mercato entrerà un po' più nel vivo per questo io aspetterei e monitorerei la situazione Maurito Icardi perché che si potrebbe rappresentare una parziale contropartita all'operazione importante che porterebbe Icardi al Milan questa è ancora un'idea di mercato, non è un progetto vero e proprio però attenzione perché nel mercato davvero può succedere di tutto e quindi monitoriamo, la mia idea è questa, che si può aspettare e se Icardi non resta al PSG come credo magari non va neanche la Juve con l'Inter che preferirebbe darlo al Milan allora però passando attraverso una cessione di Donnarumma ci potrebbe essere poi un ingaggio importante girato ai Cardi insomma questo però è prematuro sicuramente che si piace all'Inter e che si può diventare una pedina di scambio in questo calciomercato fatto soprattutto come detto di scambi ci saranno altri video durante la giornata e vi anticipo che l'avvocato del diavolo Emiliano Nitti sta lavorando un servizio bomba esclusivo per Milanello per quanto riguarda la cessione del club con un nuovo possibile acquirente quindi sintonizzati su Milanello iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi nulla della vostra squadra del cuore cioè il Milan vi ringrazio e vi do il mio buongiorno di nuovo buona giornata a tutti voi mi raccomando con il Milan nel cuore sempre e comunque ciao a tutti